Preghiera del mattino Signore, durante questa notte mi sono sentito protetto. Di cosa devo aver timore alla luce del giorno? I miei amici, i miei colleghi hanno sguardi interrogativi. Come è possibile che uno si possa sentire così sicuro di sé quando si tratta di Dio? Egli soccombe piuttosamente alle sue proprie illusioni. Signore, fa che la tua potenza possa mostrarsi loro attraverso di me. Amen. Amen.